Questo lo diamo a Daniela Bertini Premi a Rau, il giochi della serata E Andrea Bonechi L'attore Andrea Bonechi No, visto il cuore di quest'altra cosa che non so cosa sia Oc, ma molto carina Chiamerei Patrizia Patrizia sensabile Buona, se volete fare delle foto anche con il mio lavoro Facciatevi, molto bene Cariana, fai pure una foto con il Damonelli che ha promiato Grazie Molto brava Questo cos'è? Questo offerto aditta, braccialino Questo già mi sembra più interessante Grazie Allora, Floriana, molto brava Casalmente, prendi il volo di nuova Floriana, allora Premi a Rau, un grande applauso al vicepresidente del circo L'unico lavoro che ha avuto il coraggio di mettersi osservata fuori da questa festa Vorrei sottolineare la classe d'eleganza anche durante le conversi più faticose, più umili del giardinaggio della Floriana Allora, un altro premio importante, questo premio importante è alla nostra amica Laura, scusami, mi devo... Laura, Laura Bellissima premio a Laura Una grande e immensa Premi a Calussi Certo, la foto è doppio a Laura Molto brava Le foto sono finite, i premi puri, grazie Quanti premi abbiamo ancora? Penso un po' il conto Allora, la prossima premiata non so cosa sia La prossima Ah, questa è una cosa che sarà molto apprezzata Bellina, molto carina La signora Maria Pia Questo splendido premio È un buono così È un buono Non è niente casuale Ovviamente, venga signora Le foto a Maria Pia Con questo splendido premio Oggettimento offerto da LIA